Sì, sono partite le trenta, ha confermato che sono trenta, ci sono tutte. Emma Rubecchi, Agnese Colombo, Viola Zaffaroni, Sara Biffi, Giorgia Pierotta, Elena Brioschi, Lea Corradini, Matilde Pin, Rebecca Valagussa, Gaia Meringi, Giulia Piganò, Vittoria Pizzini, Rebecca Barilani, Selene Aceti, Raffaella Cadenazzi, Viola Mentorino, Susanna Rocchetti, Giada Ragone, Atti Francesca Filippi, Angelica Piloni, Sara Gatti, Asia Negri, Martina Vitale, Alessia Franculini, Andrea Alecchi, Melissa Gatti, Matilde Crozza, Maria Accadenazzi, Matilde Elli, qui sono tante le atlete nazionali, abbiamo campionesse europee, tra cui proprio Melissa Gatti che adesso è in testa al gruppo, campionessa europea 2022, campionessa italiana recentemente. in gran forma quest'anno la ragazza della Brianza in line. Adesso è Marzia Ratti davanti con il gruppo allungato, la prima campana suonerà a meno 26, la prima eliminazione sarà a meno 25. Marzia Ratti, adesso forza e quarta, Asia Negri, campionessa europea, dei cento metri, i cento metri, insomma da sempre, praticamente nel giro della nazionale uno dei migliori talenti del nostro patinaggio degli ultimi anni, è una gara di livello assoluto. Adesso è Andrea Alecchi davanti. Poi Lea Corradini in seconda posizione, adesso Gaia Meringi per via esterna, che può andare davanti, non ce la fa. Siamo a meno 27. Giorgia Pierotta, poi Gaia Meringi in seconda posizione, gruppo allungato. Pierotta Meringi, Martina Vitale, adesso ancora sorpassi per via esterna quando al passaggio suonerà la prima campana e poi cominciano le eliminazioni. eliminazioni. E qui si lotta per le posizioni con Corradini, Oveca Valagusa in seconda posizione. Salta l'eliminazione, si è ritirata un atleta, quindi non ci sarà eliminazione, no eliminazione, eliminazione non c'è, no eliminazione. Proviamo sempre Meringi davanti, poi Lea Corradini in seconda posizione, adesso è tornata davanti Andrea Alecchi ci si succede nelle prime posizioni, ma siamo all'eliminazione di meno 24. Spirante numero 90, prima connessione, 405, prima connessione, numero 339, eliminata 3-3-9. Gaglia di bronzo, recentemente sui 100 metri, Francesca Filippi, una delle migliori velociste in Italia, eliminazione di meno 23. 283, partita eliminata, 2-8-3, viola, 106, prima punizione, 1-0-6, eliminazione di meno 22. 264, 2-6-4, Raffaella, eliminata, grazie, siamo pronti all'eliminazione di meno 21, teniamo numero 499, prima punizione, 4-9-9, 4-4-9, anche 4-4-9, poi la punizione, eliminazione di meno 21. 38, guardate, numero 38, 3-8, Sara, eliminata, grazie, Sara, per esserti fermata subito, cioè, sempre regaio a Meringi, in testa al gruppo, quando al passaggio, mancheranno 20 giri, ci sarà un'altra eliminazione, eliminazione al passaggio, eliminazione al passaggio, eliminazione adesso. Visto! Stai, 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 stai! 152, è eliminata, 1-5-2, Giulia, salito! Giulia, per esserti fermata subito, ma siamo già praticamente, in direttore d'arrivo, per l'eliminazione di meno 19, con, in testa al gruppo, e da qualche tornata, la teta di Piacenza Valor Team, ma siamo alla eliminazione. 2-10-38, 1-2-3-8, vittoria, eliminata, grazie vittoria, per esserti fermata subito, adesso, in testa al gruppo, Giorgia, Piotta, Gaia Meringi, torna davanti, quando siamo all'eliminazione, di meno 18. Eliminazione di meno 18, numero 9, numero 9, Emma, numero 9, numero 9, Emma Robecchi, sei stata eliminata al giro precedente, Emma, grazie, intanto siamo all'eliminazione di meno 17, poi annuncio l'ammunizione. 319, 3-1-9, Giada, attesa 405, seconda munizione, entra in diffida, 405, 405, seconda munizione, entra in diffida, siamo già quasi pronti alla eliminazione di meno 16, con tanti chilometri davanti per la Gaia Meringi in questa gara, eliminazione di meno 16, eliminazione di meno 16. 87, 8-7, Matilde eliminata, grazie Matilde per esserti fermata subito, siamo già agli ultimi 15 giri, abbiamo superato la metà gara, con l'eliminazione, a punto di meno 15. 499, 499, Andrea, eliminata, è andata anche davanti, è stata molto attiva nei primi giri, Andrea Lecchi, quando siamo eliminazione di meno 14, con la testa del gruppo sempre molto animata, eliminazione, 261 al giro precedente, 2-6-1, Selene eliminata al giro precedente, grazie, quando siamo già all'eliminazione di meno 13, eliminazione adesso, 831, 8-3-1, Matilde, grazie per esserti fermata subito, adesso Melisa Gatti davanti, tornano nelle prime posizioni, è rimasta molto coperta, la, la superstar della Brian Freeliner, eliminazione di meno 12, 17, 17, no, 17, 1-7, Agnese, numero 405, squalificata, quindi salta l'eliminazione, atleta 405, squalificata, quindi no elimination, no eliminazione adesso, non c'è eliminazione, no eliminazione, e adesso è tornata in testa al gruppo, Lea Corradina, ma anche la, ragazza della GP Mobili Cantu, molto attiva insieme alla Corradina, della polisportiva di Bellusco, nei primi giri al passaggio, eliminazione di meno 10, eliminazione al passaggio, eliminazione adesso, 445, 445, 445, Asia, pensavo stessi diventando fondista, non ancora, non ancora, non ho detto no, ho detto non ancora, a questo punto, siamo alla eliminazione, di meno 9, tornata davanti, Gaia Merinzi, almeno 4 km davanti, per lei in questa gara, eliminazione di meno 9, 449, 449, 449, Martina, 449, 449, Martina, devi fermare, perché sei stata eliminata, grazie, Martina, adesso hai sentito, quindi, eliminazione di meno 8, 454, 454, 454, Alessia, Alessia, tu devi fermare, Alessia Francolini, 454, 454, sei stata eliminata, Alessia Francolini, sei stata eliminata, grazie, numero 90, seconda munizione, entra in diffida, 9, 0, punti, scusate, eliminazione di meno 7, 19, numero 19, 1, 9, e adesso il gruppo, anche fisicamente, molto più smilzo, strinzito, rispetto alle prime tornate, siamo le ultime 6, con l'eliminazione di meno 6, numero qua è 40, eliminata, Giorda, e adesso, si è messa, in testa al gruppo, Rebecca Valagussa, vincitrice tra l'altro, del trofeo, un paio di stagioni fa, con, proprio in casa, una bella vittoria, qualche anno fa, per, Rebecca Valagussa, che adesso, ha tirato un paio di giro, poi, eliminazione di meno 5, 106, la terza eliminata, 1, 0, 6, Gaia, grazie Gaia, per essere informata subito, siamo, adesso, con, Elena Bojowski, in testa al gruppo, poi, Melissa Gatti, e adesso, ultimi, quattro giri, 76, 76, Lea Corrodini, adesso, 3, eliminazione in un fila, siamo, eliminazione di meno 3, poi meno 2, meno 1, e la volata finale, eliminazione, di, meno 3, eliminazione, 3, 18, 3, 1, 8, Susanna Rocchetti, eliminata, grazie Susanna, adesso, davanti, è, Elena Brioschi, con, poi, Melissa Gatti, in seconda posizione, poi, un atleta del GP Mobili Cantu, eliminazione di meno 2, e siamo alla penultima eliminazione, poi, volata finale, 320, 3, 2, 0, Marzia, 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 grazie, siamo alla, ultima, ultima eliminazione, con, è partita Melissa, è partita Melissa Gatti, eliminazione di, eliminazione di, 431, la teta eliminata, ed è partita Melissa Gatti, ed abbiamo poi visto, la superstar di questa categoria oggi, va, vince con un ultimo giro fenomenale, fenomenale, e, vince, la, 8000 metri, ad, eliminazione, dell'Avvianza in Line, Melissa Gatti, e, facciamo un grande applauso, di, boccando l'uomo, per la stagione internazionale, di questa atleta, che si è posettata, l'abbiamo detto, in gran condizione, in questo 2024, Melissa Gatti,